Riparte la stagione di estate liberi, i campi di impegno e formazione promossi da Libera sui beni confiscati alle mafie, con attività di impegno manuale, incontri con familiari delle vittime innocenti delle mafie e testimonianze di giornalisti e rappresentanti delle associazioni locali e delle istituzioni. Un'opportunità, riferisce in una nota, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti per migliaia di ragazzi e ragazze di vivere in pieno il valore dell'antimafia sociale e di sperimentare la bellezza dei territori coinvolti. In Calabria sono 20 i campi programmati e numerose le località coinvolte, Crotone, Isola Caporizzuto, Polistena, Reggio Calabria e Gioiosa Ionica. Tante le attività previste, dalla cura dei quartieri, intesi come beni comuni ai lavori di manutenzione dei beni confiscati, dal ripristino ambientale al monitoraggio civico, un'immersione, è detto ancora nella nota di Libera, nelle tante esperienze di solidarietà, condivisione all'insegna della lotta alle mafie e alla corruzione. Da giugno a ottobre, a livello nazionale, sarà possibile partecipare a più di 150 esperienze distribuite in 16 regioni e 80 località, che metteranno a disposizione oltre 13.000 posti dedicati alla partecipazione di giovani minorenni e maggiorenni, gruppi organizzati, aziendali e internazionali. Tutto questo insieme ai tanti animatori positivi dei territori, in rete con Libera, cooperative sociali, associazioni, giornalisti, magistrati e rappresentanti delle istituzioni. L'attività formativa riguarderà tematiche sociali ed emergenze educative. Si punterà a stimolare dibattiti e idee sui temi che riguardano il nuovo e così poco visibile volto delle mafie, per mettere a punto non solo analisi adeguate, ma anche strumenti operativi.